numero 3 questo è un termo ventilatore caratterizzato da un motore rotativo a tre velocità il cui albero è stato montato su supporti a bronzine che fanno girare la ventola in fibra di vetro l'accuratezza costruttiva emerge anche con riferimento all'avvolgicavo integrato al corpo macchina in polipropilene stampato auto estinguente nonché alla resistenza variabile di 1200 watt dotata di limitatore termico numero 2 si presenta con un design compatto completo di maniglia per un comodo trasporto di ghiera per la regolazione della temperatura e di resistenza in ceramica che riscalda più velocemente rispetto a quelle tradizionali di tipo metallico particolarità del modello è il programma eco per ridurre i consumi energetici del 35 per cento in quanto disattiva e riattiva l'elettrodomestico rispettivamente quando viene raggiunta la temperatura selezionata o questa viene alterata il prodotto si presta alla programmazione rapid con emissione di calore continua e costante oppure può erogare aria fredda in modo da poter essere utilizzato anche in estate trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 1 il prodotto ha un design elegante a colonna con un pannello digitale soft touch ed è stato completato con una pedana dotata di sistema di sicurezza anti ribaltamento in modo che in caso di cadute accidentali venga spento all'istante conservando comunque i valori di settaggio funzionante anche con telecomando e dotato di base oscillante per distribuire il calore in maniera uniforme questo termo ventilatore ha un filtro antipolvere removibile lavabile all'occorrenza e può essere programmato per erogare aria fredda durante l'estate quindi buona